Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Interpreteremo una ragazza che va a sfidare gli dèi, questa è la premessa molto molto veloce, ed è un gioco sviluppato dagli stessi sviluppatori di Ashen, che io tra l'altro non mi ricordo se ho giocato, comunque lei è la ragazza che interpretiamo, iniziamo, siamo in questa sorta di ambientazione un po' particolare, siamo in trincea all'inizio, in questa guerra con le armi da fuoco, ma poi andiamo a sfidare gli dèi. Insomma, lo proviamo perché è molto intrigante, ed esce appunto il 18 di luglio. Vedete che c'è stato un attacco alla città. Vedete qua abbiamo anche il colpo con arma da fuoco, il colpo con arma da fuoco si ricarica, li vedete in basso con il simbolino diciamo del proiettile, quello giallino sotto la pistola, e praticamente è il... Ok, è il colpo di pistola e si ricarica colpendo i nemici, semplicemente. Abbiamo il salto, la schivata, la possibilità di bere, e poi vedete che abbiamo la sorta di questo sistema di anime, rune, o come le volete chiamare. Non sono partito dall'inizio inizio, ma... Non sono partito all'inizio, ma... Questo è il guardiano della porta. Bene, ma qua ci lascio le penne, sicuro, 100%. Perché con i boss io non ho un bellissimo rapporto. Ha già ammazzato tutti. Ma poi sul corpo a corpo io veramente sono scarso come pochi. Quindi non ce la farò mai. Vedete che intanto si sta ricaricando anche l'arba che posso usare. Vedete che ovviamente sta per attaccarmi e io morirò a brevissimo. O forse è previsto che io muoia, non lo so. Sì, probabilmente sì. Sì, è previsto che finisse così. La grafica è carina, anche le scene animate, devo dire. È una bella demo, calcolando che è comunque già tradotta. Io l'ho giocato anche prima, quindi sono arrivato qua combattendo contro dei mostri. Non l'ho trovato eccessivamente difficile per quanto le boss fight. Poi è un po' che non ci gioco, quindi non ricordo bene tutti i tasti. Comunque hanno fatto saltare le bombe sulla porta della città. E questo misto di, non so, ambientazione da rivoluzione francese. Mixato a mitologia greca, sembra una roba del genere. Quello dovrebbe essere un compagno di avventure. E qua si entra anche nel fantasy, perché c'è questa volpe che poi ci guida. Ti è stata dal fiume. Continuo a sbagliare a tasto. La parata è questa. Vedete che abbiamo ripestinato la cura. La tua specie si entra a pensare in affari che non ne competono. C'era una parte luccicante, una barriera, e noi l'abbiamo distrutta. Non lo so. Voi direte l'ennesimo souls. Sì, probabilmente è vero. Anche se la natura souls è meno, è più light. Infatti lo definiscono un souls light e non un souls like. Non so il prezzo ancora. 18 luglio sarà da vedere. Sì, non è. Allora, la cosa che ho notato prima col boss è il sistema un pochino di lock della telecamera che non era proprio il massimo, ma c'è ancora tempo per sistemare, insomma. La divinità che hai liberato si chiama Uru. Le sue schiere di morti seminano distruzione ad Alba. È la causa delle tue sofferenze. Come fai a sapere tutto questo? Perché anche esso è una divinità. Tu, una piccola volpe parlante, sei una divinità? Divinità di importanza diversa. È anche il dubito che tu abbia sentito parlare di me. Considerami la tua opportunità di redenzione. La tua specie ha razziato la mia città, il mio mondo, ucciso tutte le persone che amavo. Ogni mio respiro sarà dedicato alla vendetta contro gli dèi. Per quali motivo non dovrei... Ok. Morta gli dèi. Da sola non puoi alcun che è contro una divinità. Lascia che ti aiuti. Se sei un Dio, sei uno di loro. Perché mai dovrei aiutare qualcuno che ho generato ad uccidere? Se hai vendetta che cerchi, te la concederò. Finché Uru è libero, il tuo mondo sarà in grave pericolo. Aiutami a imprigionarlo. Fermo all'ondata di distruzione. E' il minimo che tu possa fare. Abbiamo un accordo. Prova anche solo a pensare di ingannarmi. Ti confisco... Conficco, non ti confisco. Ti confisco, ti confisco, sì. Va bene, da questa parte. Andiamo. Ti confisco, questa ascia. Non ho letto dove, poi perché mi sono incartato e ho iniziato a ripeterlo inutilmente. Bellissimo, il sistema di illuminazione. Solo una geniera. Combatto in trincei, gallerie e luoghi in cui una ascia torna utile. Ok. Ok. Beh, direi che queste meccaniche qui sono più da action game che da souls. Comunque è il saltare così. Quindi qui dammi un po' di polvere nera. Y. Bene, ora cerca di tenere il passo. Abilità acquisita. Ok, apriamo il menu abilità così vi faccio vedere anche il menu. Allora, praticamente sto giocando col pad. Ci sono tre linee d'abilità. Adesso qua ne vediamo due. Quindi possiamo andare a scegliere. Spostamenti con la polvere. Abilità attivata. Premi B durante una schivata. Per eseguire una schivata doppia. Infatti non è un gran che la schivata. E infatti si può potenziare. E questa invece l'abilità. Ah, l'abbiamo già però. Posso potenziare e andare in colpo caricato. Tenendo premuto a reti. E eseguire un potente colpo caricato con l'arma da fuoco. Ok. Qua abbiamo invece la guardia. E qua invece possiamo attacco posta schivata. Poi eseguire un attacco rapido in mischia. E' seguito una schivata. 2500. Non ho abbastanza perché ne ho poche. Ne ho 666. Abbiamo la mappa. Con la regione del gioco. E le missioni da fare. Quindi è tutto molto abbastanza chiaro. Non c'è nulla di criptico. Ecco per citare altro. Questi sono i tutorial. Tutto quello che io ho fatto. Nella prima parte dell'avventura. Gli attacchi di sfondamento. Il contraattacco. L'attacco con l'arma da fuoco. La reputazione che è quella. Le anime in pratica che guadagniamo. Il bersaglio fisso. Lo stordimento. Quando praticamente noi pariamo. Perfettamente lo stordiamo il nemico. E poi abbiamo l'inventario. Con il nostro equipaggiamento. Le nostre armi. Andiamo avanti. Postamenti con la polvere. Ora poi. Infatti le mosse ce le ha date adesso. Possiamo muoverci. Premendo B. E poi di nuovo B. Mentre sei in alto. Sì. Poi seguire un salto con la polvere. Ok. Mezza aria con B. Mentre sei in aria. Poi con A. Ok. Dai proviamo. Salto. Premo B. Premo B. Ancora. Ok. Molto bene. Carina sta cosa. Quindi io salto. Ok. Una volta sola però. Eh sì. Non so se poi la polvere sia effettivamente illimitata ma. Anche il salto. Quindi praticamente faccio uno e due. Il doppio salto. Ma funziona. Due. E poi. Ok. Sì. Più o meno sì. Carino. Carino. Bellissima l'ambientazione. Non so dove stiamo andando. Anche perché qua non ci vi riuscita. Cadere è pericoloso. Se cadi nella posizione troppo elevata subirei danni. Puoi restare la caduta premendo A così da ridurre la velocità. Ok. È detto anche l'utilizzo criminoso del doppio salto. Tac. Olè. Bello. Sì. Siamo più decisamente su... Sull'action. Piuttosto che sul Souls. Però. Ok. Questa non... Ok. Questo è ancora tutto tutorial. Cioè niente di... Ok. Salta su. Salta di là. Salta di qua. Salta di su. Ok. Le consunzioni sono potenti abilità magiche uniche e controllate da Enki. Per usare una consunzione dovrai riempire la barra della consunzione di Enki sconfiggendo nemici. Ok. Quando la barra della consunzione è piena pieni Y più LB per lanciare la consunzione equipaggiata. Y e LB per lanciare... No. Non ce l'abbiamo... Uuuu. Ma dov'è la... Ah ok. LB più Y. Simpatico. Qui non dovrebbero esserci... Dovrebbero esserci dei morti. Che luogo è mai questo? Situazione cambiata con delle prive di sensi. Forse è meglio che tu lo veda con i tuoi occhi. Ok. Vediamo dove stiamo andando. Non so quanto è lunga sta demo ma sicuramente... Non la prenderò più in mano ma aspetterò il gioco completo. Mamma mia il doppio salto veramente. Infliggere danni preliminari. Con l'aiuto di Enki puoi sconfiggere velocemente i nemici riempiendo prima la barra preliminare. Ok. Con Y per attaccare con Enki. L'attacco maledice il nemico e riempi. Ok. Quando la barra preliminare è piena il nemico diventa vulnerabile. È il momento di usare RBO e RT per eseguire un attacco. Ritro. Ok. Quindi praticamente... Premo Y. Ah bellino. Gli fa l'attacco lui. La barra è quasi piena. Ok. Adesso è piena. E adesso? Cioè praticamente lui aveva una sorta di scudo. Io lo attacco. Oh mamma mia ragazzi. Devo bere. Mi sono salvato al pelo. No. Devo riempirla? Eh sì. Devo riempirla di nuovo. Ok. Ok. No. Gli si era scaricata. Perfetto. E io ho quasi finito le cure. Tenendo premuto lo stick sinistro c'è il... La corsa. Nemici corazzati. Alcuni nemici indossano una corazza che riduce notevolmente la cosa. Ok. Danni preliminari. Ok. Un attacco critico e letale per un nemico non corazzato. Quello che fosse corazzato comporterà la distruzione della corazzatura. Ok. Niente. Facciamo la solita roba. Riprendo fiato. Infatti lui non ha più fiato. E con... Cliccando con lo stick destro facciamo il target. Ok. Preso. I checkpoint sono dei luoghi in cui puoi riposarti, modificare l'equipaggiamento e acquisire nuove abilità. Quando ti fermi in un checkpoint la tua posizione verrà salvata. In caso di sconfitta tornerai in la posizione dell'ultimo checkpoint. Ok. Interagire con il magnete. Il magnete è questo. Eh sì. Qua abbiamo riposo, abilità, menu giocatore. Ok. Migliorare capacità, costa, reputazione. Scherzo inventario consente di visualizzare tutto l'equipaggiamento ottenuto e di selezionare quello utilizzare. Perfetto. Registro missioni. La mappa. Addestramento rivedi tutto. E' quello che vi ho fatto vedere prima. Infatti adesso arriviamo completi. In mezzo abbiamo la tempesta maledetta. Che è la consunzione, quella che attiviamo quando andiamo a fare quella combinazione di tasti dopo aver riempito la barra in basso. Qua abbiamo lo spirito dilaniato. Salvare un aria un nemico. Mi costa due punti di quelli lì. No. Ho 2005 e credo che colpo caricato o attacco post schivata. provo questo. Ok. Infatti c'è acciaio, polvere o magia. Ok. Ho speso tutto. Così posso morire tranquillo. Io vorrei però dormire. Perché se a riposo ricaricherò le fiaschette. Credo. Dovrebbero tornare a due classica meccanica. Completamente. Infatti. Trovano via di uscita dalle grotte. Ma graficamente è carino. L'illuminazione è buona? L'ambientazione, c'è la storia e quelle cose lì sarà da vedere sul lungo periodo. Vediamo anche la mappa. Stiamo andando in città. Dalle ceneri. Ok, bellino. Chissà quanto è grande, ma alla fine la città era questa. Credo. Era questa. Camp Victory. Le caverne. E poi ci sono cose da sbloccare. Eh. Ma poi a livello di interazione non è male. Fatti in strada tra le file nemiche per individuare il loro capo. Dopodiché sconfiggilo per riportare l'ordine al borgo. Un po' Assassin's Creed. Un po' Un po' Eh, ciao. Un po' Far Cry. Un po' Assassin's Creed. Individual nemico. Un po' Shadow of Mordor. Shadow of War. Non lo so. Pack. Vedete che gli carica la barra, ma non ho ancora capito sta meccanica qui. Comunque, vedete che l'utilizzo di... Queste abilità che attacca, diciamo, il mio companion volpe, sono quei triangolini che vedete in basso. E poi gli faccio la final, una roba del genere. Ok, sì, dovrebbe essere... La meccanica dovrebbe essere più o meno così. Perfetto. Perfetto un bel... Allora, io devo capire... Devo capire l'abilità quella che ho preso. Cioè, io faccio la schivata e poi colpisco. Cioè, io schivo e colpisco. Boh. Che lo sa. Però ho la super mossa. Quindi, tecnicamente, forse se il capo è quello, lo faccio subito. LB più Y. Beviamo la fiaschetta. Attacca. Ho ricaricato un colpo. Perfetto. Ma è stato difficile, è stato anche divertente. Esercito dei morti sconfitto. Punto ristoro. 200 di reputazione. Credo siamo finiti. Dovremmo passare alla caffetteria e adonare. Ok. E' carino, però. Sì, lo so già. Entra nella caffetteria. Sì, ma se mi fai vedere la mappa. Ok. Questa è la città. Adesso che abbiamo a disposizione. Y. Vediamo. Io non ho capito perché adesso... Ah, in ogni borgo c'è una caffetteria. Dopo aver sconfitto il capo nemico, la caffetteria aprirà. Novo checkpoint. Parlare con lo stesso per ripristinare la salute. Ok. Perché? Vedete che io ho questo... Premendo la freccia a sinistra ho caricato queste anime, diciamo, questa reputazione che avevo in carica definitiva. Ok. Lo stesso è questa. E' una divinità anche questa, immagino, perché... Tu sei benedetta e i morti ci hanno travolto come un'ondata. Se non fosse stato per te... Non cantiamo vittorie, siamo ben lontani dalla fine di questo disastro. Informerò le altre lo stesse affinché ti tengano d'occhio. Nel frattempo tieni una buona azione e ne merita un'altra. Fiaschetta curativa. Ah, ok. Ci ha dato una fiaschetta in più, quindi ne abbiamo tre invece che due. E c'è il negozio dove si può andare ad acquistare. Enquipaggiamento. Giù per il soldato. Si compra tutto ad anime. Vediamo se riesco a prendere... Ci facciamo completamente in giallo. Brutto che non si usi per usare il mouse in realtà. Voglio farmi tutto giallo. E poi dammi anche i pantaloni gialli. 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 Perfetto. Adesso sono completamente giallo. Sono un po'... Chielbill. L'esplosione l'ho portata via un po'. L'infezione... In l'aristo. Dopo questa resti sopravvissuta, ne ero certo. C'è qualche altro superstite? Ma lo sentiamo solo noi, la volpe? Non lo vediamo. No, è là dietro. Cos'è quel coso? No, l'ha vista anche lui, è evidente. Visto combattere al tuo fianco una divinità, mi aiuterai a spedire Uru nel grande abisso. Ma sapete una cosa? Ma è molto bello perché vi dà quella soddisfazione del combattimento, dell'avanzamento, dell'esplorazione della mappa, ma senza una difficoltà frustrante. È un Souls-like alla fine. Non è male, eh? Viaggia verso i tre picchi, andiamo. Che poi sia un open world, non è un open world perché vedete che comunque è abbastanza guidato, però il mondo c'è. Quindi adesso voglio vedere se ci viaggiamo proprio noi o meno. Però avendo le varie location e le varie ostesse da cui comprare cose, potrebbe anche essere non dico un mondo aperto, ma una serie di aree interconnesse, che sarebbe altrettanto interessante. Quindi vediamo. Due ore di settimana e abbiamo finalmente avvistato la loro capitale, la città di Norma. Va bene, non so quanto durerà sta demo, magari siamo alla fine, non lo so. Ma non credo, perché credo duri qualche ora, credo, infatti. Avevo letto 6-7 ore, forse anche 8. Ok, siamo qui adesso. Quindi è cambiata totalmente la mappa, però ricordiamo una demo, quindi ci dà un po' l'idea di quella che è la regione attuale. Leggenda. E c'è un sacco di roba. C'è un sacco di roba davvero. E magari non è neanche... Oddio, poi la strada è abbastanza fissa qui, si gira, si può andare di qua, si può andare di là, però ci sta, dai. Ragazzi, questo è Flintlock. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e se magari dopo aver visto questo video, se magari siete più intenzionati a metterlo in lista dei preferiti e magari comprarlo quando uscirà il 18 di luglio. Non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao! Alla prossima Grazie a tutti.